Perché Alfonso, sinceramente va bene tutto, però continuare a far passare un messaggio di me che non è, io non ne posso più. Io non sono né manipolatore, né oppressore. Tutti qua dentro sanno come io mi sono comportato e come mi comporto ogni giorno dal primo giorno. Con gentilezza, rispetto, sono stato anche distaccato, ho preso sempre io le distanze quando Aidi me l'ha chiesto. E anzi, quando i miei amici magari mi invitavano a fare cose, ero il primo che mi tiravo indietro. Adesso Beatrice, che va dalla parte di dove tira la corrente del fiume, è ridicola. Io non ne posso più di questo genere. Fammi finire di parlare una volta ogni tanto. Adesso Beatrice staccavalcando. C'era la malentina. Ma cosa dici? Ma cosa dico la verità? Fatemi parlare per favore. Non è così? Non ho gli occhi, va bene. Adesso Beatrice sta cavalcando questa cosa perché continua il suo disegno diabolico che ha messo in atto qua dentro per vincere il gioco. Quello che sta facendo Beatrice questa sera di contribuire ad etichettarmi in un modo che è vergognoso, io ne prenderò atto qui e fuori da qui. Grazie. Grazie a tutti